Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Sulla separazione tra Ilari Blasi e Francesco Totti è stata fatta una dichiarazione pesantissima che rivela che tra i due è accaduto qualcosa di grave Ecco le parole dell'uomo.A quasi due mesi dall'annuncio della separazione, Francesco Totti e Ilari Blasi non sembrano essere intenzionati a voler specificare qual è stato il motivo che ha portato a mettere fine al loro matrimonio Proprio per via di questo loro non voler parlare dell'accaduto si è creato un caos mediatico fatto di notizie, indiscrezioni, voci di corridoio e ipotesi che non hanno fatto altro che creare dubbi riguardo la vera motivazione Totti e Ilari Blasi, la verità sulla rottura.Ma sembra che qualcuno abbia rivelato il vero motivo e l'abbia fatto tra le pagine di un noto settimanale, e si tratta di una persona molto vicino alla coppia che è stato amico di Totti per molti anni Stiamo parlando di Alex Nuccetelli che sin dal primo momento che la coppia ha annunciato la loro separazione si è sempre messo in prima linea per parlare di quanto accaduto venendo ospitato anche nella trasmissione televisiva estate in diretta Dopo alcune sue esternazioni, una delle sorelle di Ilari Blasi, Melori ha dichiarato che alcune persone vicino alla coppia stanno solo speculando la notizia per mettersi in mostra e far parlare di sé Senza specificare il nome dell'uomo, in molti hanno pensato che il riferimento sia all'u visto che il suo commento è apparso su social subito dopo che Alex è apparso in tv e ha fatto alcune dichiarazioni Inizialmente, Nuccetelli ha parlato del fatto che per lui la separazione non è avvenuta per via di un terzo incomodo come invece detto da molti giornali e che le foto di Totti a casa di Noemi non vogliono dire niente in quanto si vede solo un palazzo Le parole dell'uomo.In questi giorni, l'uomo, è stato intervistato da Novella 2000 e ha fatto una dichiarazione molto pesante che potrebbe mettere fine a tutte le altre notizie riguardo la fine della storia d'amore tra Totti e la Blasi Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave, dichiarano Nuccetelli tra le pagine del settimanale, non so qual è il motivo ma sicuramente un uomo così attaccato alla famiglia come lui avrà i suoi motivi Francesco parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio, continua nell'intervista, dopo quel fatto considera il rapporto con Ilari ormai finito Quindi, se le parole di Alex sono veritiere il presunto rapporto di Totti con Noemi Bocchi sarebbe la conseguenza di un'azione da parte di Ilari che potrebbe essere il tanto famigerato innamoramento da parte della conduttrice per un giovane ai tante uomo Questa ipotesi era stata data come la causa scatenante da parte dei giornali per poi essere accantonata per un po' e ripresa in seguito quando si è parlato di un flirt tra la conduttrice e il personal trainer Cristiano Jovino Al momento, però, tutto tace e questa dichiarazione non fa altro che andare ad aumentare le varie versioni rilasciate dai giornali in queste settimane Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video